A novembre 2015 il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente annunciava su Facebook di essere indagato dalla procura del capoluogo, specificando peraltro che si trattava di indagini preliminari e di non conoscere altri dettagli né tantomeno l'ipotesi di reato. Da mesi si rincorrevano voci di un ipotetico avviso di garanzia nei suoi confronti, un atto che però non è mai arrivato mentre è stato recapitato un avviso di proroga delle indagini. Dopo i sei mesi previsti dalla legge infatti, stanto a quando appreso e rilanciato da diversi media, il GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del PM Stefano Gallo, ha notificato a Cialente un'altra proroga delle indagini. Altri sei mesi per approfondire la posizione del primo cittadino e di altre due persone che sarebbero indagate, gli imprenditori Elisa Ioannini e per Giorgio Ruggeri. Tentata concussione e corruzione sarebbero, ma il condizionale sembra d'obbligo, le accuse emosse dalla procura. I dettagli della vicenda e dell'inchiesta sono coperti dal più stretto riservo, ma, stando almeno a quanto dichiarato dal sindaco in una intervista, tutto sarebbe legato a presunte irregolarità nei lavori di ricostruzione della sua abitazione privata. Una vicenda che si intrecerebbe, tra l'altro, con la tentata transazione per risolvere l'impasso sulla metropolitana di superficie. Al termine delle indagini, il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, potrà richiedere al GIP l'archiviazione o, se reputa, formulare invece l'imputazione, esercitando così l'azione penale. Nei prossimi mesi si saprà se si arriverà all'archiviazione o all'imputazione, con il PD che, nonostante Cialente è noto, non potrà candidarsi per aver raggiunto il numero massimo di mandati previsti dalla legge, dovrà affrontare una questione spinosa a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative.